Un medico siciliano si è salvato e presto tornerà in Italia. Un piccolo aereo commerciale nella sud del Sudan è caduto poco prima dell'atterraggio causando la morte di gran parte dei suoi passeggeri. Dei 23 a bordo solo 4 si sono salvati e tra loro un medico catanese impegnato come volontario in Africa che per miracolo è riuscito a sopravvivere all'incidente in condizioni non preoccupanti e presto sarà rimpatriato in Italia. Il medico rimasto ferito si chiama Damiano Cantone di 32 anni ed è impegnato con la QAM, la ONG di Padova che organizza il lavoro dei medici volontari in Africa e che ha comunicato l'identità del connazionale dicendo che è cosciente che è un vero miracolo che si sia salvato. In una nota si legge che il dottor Cantone era diretto all'ospedale di Irol per prestare servizio insieme a medici con l'Africa del QAM che supporta la struttura dalla 2007 a favore della salute di mamme e bambini con grande sollievo seppur addolorati per le tante vittime e le loro famiglie e confermiamole che le condizioni di Cantone sono buone e che il medico non è in pericolo di vita. Verrà trasferito a Yuba e rientrerà presto in Italia. Il piccolo veivolo era partito dalla capitale Yuba ed era diretto nella città di Irol quando si è schiantato nell'anonimo lago poco prima dell'atterraggio. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta e al momento le cause restano da accertare anche se in molti puntano il dito sulla scarsa visibilità. Al momento dell'atterraggio c'era una fitta nebbia e quando ha cercato di virare per mettersi sulla linea della pista l'aereo si è schiantato nel lago di Irol, ha detto il ministro dell'informazione dello Stato Abel Hakel che scrive alla BBC online. Tra le vittime il pilota e il copilota è un operatore della Croce Rossa e un vescovo anglicano mentre tra i sopravvissuti oltre al medico italiano ci sono anche due bambini. L'unità di crisi della Farnesina in coordinamento con l'ambasciata d'Italia da Gisabeba si sono immediatamente attivate per seguire la situazione dando assistenza all'italiano sopravvissuto all'incidente. Da Gisabeba il medico sarà probabilmente trasportato a Nairobi in Kenya.